Erano da poco trascorse le 19, quando è divampato un incendio in un'abitazione di via Bozzi in pieno centro a Battipaglia. Le fiamme non hanno lasciato scampo a Giuseppina Alfinito, 64enne, reduce dai postumi di un grave ictus. La donna che si trovava sola in casa, non potendosi muovere, è rimasta imprigionata ed è stata avvolta dall'incendio. Il rogo ha distrutto completamente l'appartamento che si trova al primo piano, di uno stabile a due livelli. I carabinieri della compagnia di Battipaglia sono certi che si sia trattato di un incidente, anche perché un anno fa nella stessa casa si verificò un episodio analogo a causa di una cicca di sigaretta finita sul materasso, un episodio che ricordano anche i vicini, sotto shock per la tragedia avvenuta ieri sera. La famiglia era bene, non lavorava, un marito stava a cortare la moglie. L'anno scorso pure è successo, tutta la casa fu distrutta, partì 30 la cucina l'anno scorso, ma non si sa. Lei era qui quando c'è stato l'incendio, avete sentito l'umore? La finestra era chiusa, quindi mi ha cominciato a sentire la pizze di fumo, poi sono uscito fuori e ho visto che un guaglione è carito in coppia, non lo so. Lo stabile una volta sedate le fiamme è stato dichiarato inagibile, le due famiglie che vi abitavano sono state ospitate dal comune in una propria struttura. La salma è stata restituita ai familiari, che già in giornata nella chiesa di Santa Maria della Speranza daranno l'ultimo saluto alla loro Giuseppina.